E lo spioncino elettronico che registra? Grazie mille per la sua domanda. Allora, installare uno spioncino digitale nella porta della propria abitazione non necessita né di autorizzazione né di un cartello di segnalazione. Ma, se lo spioncino è in grado di inquadrare e fare delle registrazioni della porta del vicino di casa, del pianerottolo, dell'ascensore, eccetera, si tratta di una potenziale violazione della privacy e chi ritiene di averla subita può sporgere querela per il reato di interferenza illecita nella vita privata, punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni, e può anche chiedere il risarcimento dei danni morali. Il garante per la privacy ha infatti specificato che non ci dovrebbe essere alcuna differenza tra lo spioncino tradizionale e quello digitale per quanto riguarda la capacità di visuale. Quindi non dovrebbe essere possibile allargare l'inquadratura o avvicinare l'immagine in un modo in cui l'occhio umano non riuscirebbe a fare, andando ad esempio a guardare all'interno della casa del vicino quando questo apre la porta, oppure zoomare sui volti di chi è in attesa, ad esempio, che arrivi l'ascensore o di chi passa per il pianerottolo. Deve quindi considerarsi vietato uno spioncino elettronico che riprende e registri chi passa sul pianerottolo di un condominio in un modo in cui l'occhio umano, usando il comune spioncino, non potrebbe fare. In conclusione, la legge cerca di riconoscere, da un lato, il diritto delle persone a proteggere la propria sicurezza e, dall'altro, il diritto alla riservatezza in casa propria e nei luoghi adiacenti. Ecco, se volete il mio parere, si tratta di una norma poco chiara che dimostra la poca conoscenza da parte del legislatore delle tecnologie, oggi disponibili, e tecnologie che vorrebbe regolamentare. Ma questo è solo quello che penso io, se vi va, fatemi sapere cosa ne pensate voi. Come sempre vi ringrazio tantissimo per i vostri contributi. Alla prossima!